Grazie a tutti Siamo qui per fare un sunto dell'operato dell'amministrazione Bonaiuto, ormai agli sgoccioli, ma noto che i lavori e l'impegno non è terminato, anzi parliamo di rifacimento di strade, di muri del cimitero, il cinema Diana addirittura, nonché le riprese dei lavori alla piscina comunale. Beh diciamo che chiaramente noi siamo ancora un'amministrazione fino alla fine attiva, quindi lavoriamo con i risultati che possono essere arrivati subito, prima, dopo, durante o come qualcuno ci dice festeggiamo i centenari dei compleanni delle persone sol perché siamo a fine mandato quindi per i voti. Queste cose ridicole le lasciamo purtroppo alle persone altrettanto ridicole. Voglio specificare che il nostro impegno e la nostra costanza nelle attività, quantomeno per quello che ci competono, sono sempre state costanti. Non abbiamo mai dato motivo di avere dei vuoti, tranne chiaramente dei momenti che possono aver rappresentato crisi politiche che purtroppo sappiamo perfettamente che in questa amministrazione, come negli anni passati, hanno consentito, non hanno consentito, quindi ai sindaci di lavorare. Pertanto credo che le defianze in questi cinque anni le ha avute anche questa amministrazione e quindi anche questo sindaco. Pertanto voglio ancora dire che nonostante il sindaco non si ricandidi in queste amministrative, possiamo anzitutto ribadire il fatto che non si è fermata l'attività amministrativa e che stiamo comunque completando ciò che abbiamo portato avanti fino ad oggi, che abbiamo iniziato in questi cinque anni. È facile dire perché non si ci pensa, perché non si fa, perché non si dice. Dobbiamo parlare dei dati di fatto, di ciò che realmente si sta realizzando. Forse a qualcuno fa male, questo non lo mette in dubbio, questo però non significa che si deve obbligatoriamente criticare chi in realtà fino alla fine svolge un operato nei confronti della cittadinanza, perché di questo stiamo parlando. Oggi in realtà stiamo svolgendo e stiamo portando a termine delle attività che erano iniziate circa sei mesi fa e anche di più. Purtroppo quando parliamo di lavori pubblici ci dobbiamo rendere conto che si fanno gare d'appalto, pertanto ci vogliono i tempi, c'è la tempistica. Purtroppo con la crisi economica che c'è in tutta Italia e in tutto il mondo è chiaro che spesso ci ritroviamo anche a far fronte a dover fronteggiare delle situazioni in cui o noi non abbiamo avuto le risorse, quindi non abbiamo avuto in quel momento storico le risorse per portare a termine delle progettualità o in altri casi anche quando abbiamo fatto delle gare d'appalto spesso le ditte non hanno potuto partecipare per ovvi motivi, quindi non stiamo qui a spiegare perché è chiaro che si sa che nel momento di crisi spesso le ditte non sono in regola, spesso succede questo, quindi vanno deserte anche le gare d'appalto. Ma questa è storia, nel senso che è tutto documentato, quindi di che se ne possa dire, di chi può parlare o che vuole parlare è giusto per screditare sempre l'operato di questa amministrazione ma credo che poi sarà fatto anche nelle future amministrazioni e chiunque arriverà saranno mosse sempre le stesse critiche, questo mi dispiace perché è un segnale negativo per la crescita della nostra città. Apprezzare ciò che si fa comunque o dire perché fate questo piuttosto che quest'altro, non c'è una priorità, c'è il fatto che comunque la città è tutto uguale, le zone della città sono tutte uguali, si danno chiaramente in relazione anche alla tempistica. Parlando della strada di Contrada-Torrefano, cinque anni fa abbiamo promesso, ed è stata una promessa che mi fa piacere guardare a testa alta questa gente e poterci andare perché cinque anni fa con la nostra faccia siamo andati in quelle strade, in quella zona, a dire che comunque quella strada sarebbe stata realizzata. Una promessa mantenuta comunque? Anche se l'ultimo giorno sì, e la cosa non ci può interessare, né che siamo sotto campagna elettorale, perché ribadisco il sindaco Buonaiuto non si candida, non ha nessun rientro e ritorno in questa cosa. Pertanto oggi possiamo dire che non solo la strada di Torrefano è il primo tratto, perché ovviamente abbiamo dato il primo segnale, perché stendere le basi e iniziare significa che chi arriverà dopo di noi dovrà comunque continuarla. Spero che abbia questo scatto di intelligenza per capire che le opere iniziate vanno completate. Per quanto ci concerne, anche i lavori della piscina, di che ne possa dire che qualcuno voleva vantarsi di riprenderli, sono ripresi proprio in questi giorni, chiaramente per motivi meramente burocratici e le carte parlano, sono tutte prese più volte dalle forze dell'ordine, verificate e riportate nuovamente in comune. Visto che qualcuno parla e si lamenta sempre della mancanza di legalità, vorrei capire e far comprendere a questa gente dove la mancanza di legalità quando questo comune è stato girato come un calzino è riportato nuovamente a termine. Quindi voglio far comprendere, voglio capire, anzi se mi fanno comprendere dove è l'illegalità e se di illegalità si deve parlare, di cosa parliamo con nomi e cognomi e fatti. Perché fino ad oggi ritengo che avendo avuto svariati controlli tutti i giorni, tutti i mesi, tutti i momenti, su ogni cosa che abbiamo fatto i controlli ci sono stati e ritengo che siamo ancora qui. Quindi quando parlo di legalità forse qualcuno dovrebbe un attimo forse parlare di sé più che parlare degli altri o divantarsi di cose che non hanno neanche a livello titolo personale, quindi figuriamoci. Ma andiamo oltre, possiamo anche parlare del fatto che il cinema Diana ha ripreso con la sua reale importanza, cioè è stato riportato per com'era anticamente, quindi abbiamo restaurato un immobile ancora non indifferente. Tra l'altro parliamo di un progetto consegnato ed ultimato al cinema Diana. Anche questo nei cinque anni consegnato ed ultimato, stiamo aspettando per aprirlo che si deve indire la gara d'appalto perché lì abbiamo un finanziamento, ovviamente non è stato fatto con i soldi delle casse comunali ma con un finanziamento statale, pertanto ha una finalità ben precisa. Parliamo chiaramente di un centro di accoglienza per gli immigrati che voglio ribadire per molti che chiaramente magari non hanno ben presente cosa significa centro di accoglienza. Il centro di accoglienza non significa che la gente deve andare lì a dormire, la gente non andrà lì a dormire, cioè gli immigrati non andranno lì a dormire. Ma l'integrazione degli extracomunitari, di queste persone che comunque sono qui e hanno bisogno di imparare la lingua, di avere dei diritti che sono quelli dei servizi sanitari e di capire come funziona il sistema italiano, giuridico, amministrativo, l'integrazione quindi nella società di queste persone che vengono qui e quindi evitare il famoso bivacco che accade in piazza e integrandoli magari in un centro polifunzionale che possa dare varie prospettive di integrazione con la nostra società e soprattutto di dargli un'occupazione non dal punto di vista lavorativo ma impegnativo. Quindi significa di far comprendere che se vuoi restare nella nostra città devi comunque integrarti con determinate regole e vantaggi, imparare la lingua, capire come funziona, quali sono i nostri usi e non sicuramente come qualcuno sta facendo presente una cosa scandalosa a cui sto assistendo in questi giorni e che pare che ci sia una componente politica che si sta candidando che per integrare i nostri immigrati debbono semplicemente fare scomparire i crocefissi dalle scuole o dagli uffici pubblici. Cosa più sbagliata che possa esistere e credo che ancora questo sia uno schiaffo morale per la perdita dell'identità della nostra città e della nostra nazione. Quindi ancora una volta voglio far comprendere che questo sicuramente non può rappresentare la crescita di una città ma deve rappresentare quindi anche il centro polifunzionale per gli immigrati deve rappresentare un centro di crescita e di cultura quindi non di allontanamento o quando quello a cui assistiamo quindi la zona mercato, quindi con Piazza Colonna, con la zona del mercato all'ingrosso con la piazza stessa che è diventata un'area di bivacco con il centro polifunzionale chiaramente saputo gestire da persone che magari saranno espedienti nel settore quindi chiaramente affidato a gente competente nel campo e noi a paghino di professioniste e professionisti quindi ragazzi che hanno studiato e che non andranno via che si dedicheranno interamente a questo genere di attività per l'integrazione perché è una realtà, è inutile negarla però piuttosto che decidere, scegliere di lasciarli in mezzo alla strada a fare nulla quindi immaginiamo che anche i nostri giovani possono integrarsi e già questo accade nelle scuole perché non deve accadere anche al di fuori delle scuole con l'integrazione di queste persone quindi dandogli degli insegnamenti giusti e validi e integrandosi nelle città come accade in tante altre città della Sicilia di cui ne abbiamo tanti e tanti esempi Ma i lavori non finiscono qua? Ovviamente ripristinato il muro del cimitero forse a causa di un incidente stradale oppure di un cedimento della struttura che cosa è accaduto? Beh, anche di questo chiaramente al di là dell'evento, ecco, al di là della casistica che sia stato un evento fortuito e così via la nostra celerità nel voler svolgere sia come è stato per il cimitero come è stato anche per la rotatoria fatta da poco e voglio dire distrutta in breve sono delle cose che facciamo che forse magari non abbiamo mai detto non abbiamo raccontato non diciamo e non facciamo ma si vedono il voler a tutti i costi denigrare Io piuttosto vorrei lasciare un messaggio ed è quello che credo faccio sempre come generalmente usiamo fare ormai è consolidato che ogni anno in questo periodo parte la disinfestazione e ormai è una routine non è una cosa dell'altro mondo e nonostante l'amministrazione stia finendo potevamo lasciarla ad altri e invece l'assessore all'ecologia ha ben pensato di non solo pensare la disinfestazione che comunque se non la fa in questo periodo non serve più e comunque stiamo operando in questi termini ma sta anche provvedendo per operare per la pulizia delle spiagge perché se è una cosa che demandiamo eventualmente alla prossima amministrazione non la si farà più perché se non la deliberi ora la gara d'appalto non partirà mai quindi se ne parlerà a ottobre quindi noi vogliamo lasciare la continuità questa è la cosa più importante a cui premo veramente dire la continuità non perché siamo sotto campagna elettorale ma perché di routine comunque abbiamo per cinque anni operato in questo senso Io ringrazio l'assessore Patrizia Tossani e ringrazio voi per averci seguito come sempre su paghinocambios.it Al prossimo episodio Autore dei sovrapposti